Ecco il sistema frenante Pre-Safe in azione. Il traffico antistante è sorvegliato dall'azione combinata di due sensori radar a corto raggio, aventi un raggio d'azione di 30 metri ed un angolo di rilevamento di 80, con quella del radar a lungo raggio, aventi un raggio d'azione di 200 metri ed un angolo di rilevamento di 9 gradi. In caso di improvviso pericolo, il freno Pre-Safe avverte il guidatore distratto con un segnale di distanza che richiede un intervento immediato. Dopo un triplo segnale acustico, se il guidatore non reagisce, il freno Pre-Safe effettua automaticamente una frenata parziale all'incirca 1,6 secondi prima del momento dell'impatto. La decelerazione può arrivare fino a 0,4 G, equivalenti a circa 4 metri al secondo quadrato, un valore questo che, in base al modello di calcolo, rappresenta all'incirca il 40% della massima potenza frenante. Quando il guidatore frena, il Brake Assist BAS Plus si adegua alla situazione al fine di evitare il tamponamento. Se la velocità è superiore a 50 km, in caso di forte frenata viene attivata anche la luce freno adattiva lampeggiante al fine di segnalare la situazione ai veicoli che seguono. Grazie. Grazie.